Soprattutto perché la Fiorentina, a parte prima quattro ore del Cesena che ha un po' mescio difficoltà sulle ripartenze, dove la Fiorentina poi dopo un quarto d'ora viene fuori la qualità tecnica della squadra di Montella, soprattutto non siamo stati bravi noi a capire che momento lì bisogna andare a difendere un po' meglio, abbiamo continuato a fare la stessa partita prendendo ripartenze da una squadra e per 25 minuti abbiamo visto una grande Fiorentina e un Cesena sotto tono, probabilmente la terza partita il turnore di Montella, quel poco turnore che ha fatto è stato migliore del nostro e noi abbiamo pagato a livello anche fisico questo che può essere questi 30 minuti fatti non da Cesena che diciamo lo facciamo meglio Il secondo tempo abbiamo provato a cambiare un po' qualcosa, Modulo e Modulo è un giocatore e siamo stati più squadra, nel 2 su 2 a 0 abbiamo sbagliato il gol del 2 a 1 gravorosamente e come succede nel calcio dopo i primi minuti prende il gol del 3 a 0 però la squadra non ha mollato, cercava di essere comunque di provare a giocare sempre e il secondo tempo è stato il secondo tempo da Cesena dove poteva sicuramente essere più propositivo è stato più propositivo nei confronti del primo tempo e ha meritato anche il 3 a 1 e ha meritato anche il 3 a 2 secondo me perché abbiamo dato due o tre occasioni per provare a riaprire la partita, non ci siamo riusciti, quello che posso dire è che ripeto questa terza partita qui la qualità tecnica della Svelina è stata superiore chiaramente a quella del Cesena e chiaramente non l'abbiamo pagata un pochino di più grazie grazie